Pace a voi Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Carissimi, tutti procediamo nelle difficoltà della vita, fiduciosi per quello che desideriamo compiere, come le donne che il mattino di Pasqua vanno per ungere il corpo di Gesù. Il pensiero degli ostacoli ci spinge a formulare drammaticamente del cuore le domande delle donne lungo il cammino. Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Intanto ci poniamo un'altra domanda. Perché proprio le donne vanno al sepolcro? La donna è colei che genera la vita, l'accompagna ed ha il coraggio di portarla fino alle soglie della morte e con gesti di tenerezza e di pietà introduce l'amore anche nel regno della morte. Ogni omicida odia la vita. Chi uccide una donna rifiuta e disprezza la sorgente della vita umana e odia l'universo intero. L'amore fa vincere la paura della morte. Esse vanno decise per compiere l'estremo atto di amore. Sanno cosa devono fare, prevedono l'ostacolo, ma come un flusso sorgivo e vitale non si fermano, confidano e permettono all'umanità di scoprire l'imprevedibile e l'impossibile. E' il primo giorno della settimana. Esse, sentinele della vita, scoprono il primo giorno della nuova creazione. Partono prima del levar del sole, con il dolore e l'amore tenero nel cuore, ma vedranno i segni dell'alba del nuovo giorno, la pietra rotolata, il sepolcro vuoto, il giovane che dà il Vangelo lieto annunzio. Mentre camminano, pensando al loro compito e all'ostacolo, forse ripetono nel cuore il Salmo 121. Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Dall'alto viene l'aiuto. Tutto quello che segue nella scoperta è opera della potenza del Padre della vita. E' necessario alzare lo sguardo. Questo è il gesto più umano per scoprire l'intervento di Dio. E' il secondo passo nel cammino di fede, che è iniziato prima del levar del sole. Il terzo passo è osservare con attenzione prolungata e stupore i segni sorprendenti dell'azione di Dio. La pietra è stata fatta rotolare. Si tratta, come dicono gli esperti del testo biblico, del primo passivo teologico. La condizione naturale è toccata dalla potenza di Dio. La grandezza dell'ostacolo esalta l'intervento potente di Dio, la naturalezza dell'opera sopranaturale del Padre. L'azione sopranaturale permette di avanzare nel cammino che ci siamo proposti e lo dispone a quanto per noi è impensabile e impossibile. Entrate nel sepolcro, videro un giovane. Non c'è il morto crocifisso, ma un giovane, simbolo della predisposizione alla novità inaudita. Non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. E' risorto, non è qui. Superata la paura della grande pietra già rotolata, bisogna affrontare quella della tomba vuota. C'è l'annuncio del Vangelo rieta notizia in cui il protagonista, nascosto nel secondo passivo teologico, è sempre il Padre. Gesù Nazareno, il crocifisso, è stato fatto risorgere. Il protagonista tocca la pietra perché si superi l'ostacolo al desiderio di andare avanti. Risuscita il crocifisso, fermato dalla morte, e lo fa comunicare come Vangelo perché si accenda la speranza, si renda salda la fede e si corra nella carità verso i fratelli. Si riparte con il risorto. Egli vi precede in Galilea. Il protagonista nascosto rende pienamente protagonista il Figlio Gesù, Signore della vita e della storia, e, superati la paura e lo stupore, ricostituisce la comunità come Chiesa al servizio del Regno di Dio. La passività umile all'azione di Dio Padre trasforma in protagonisti del Vangelo lieto annunzio ricevuto. Prima si fugge per la paura, poi si corre con il desiderio di comunicare la grande scoperta del Vangelo, che rimette in moto la vita. L'umile passività diventa grata vitalità nella logica nuova annunciata da Gesù. Gratuitamente avete ricevuto, passività, gratuitamente dato, vitalità. Tutto è grazia nell'accogliere e nel donare. Tutto è agape amore nel lasciarsi amare e nell'amare. Tutto è pace e shalom nell'accogliere la pienezza di ogni dono di Dio e nell'impegno senza riserve perché tutti gli uomini possano godere di questi doni. La pluralità dei doni è necessaria per esprimere nella storia la pienezza della pace, ma non deve giustificare la disuguaglianza nel goderne i frutti. I tavoli della pace sono sterili finché non permettono a tutti di sedere alla grande tavola dei frutti della pace, preparata da Dio per tutti i Suoi figli. Essa è continuamente imbandita nella storia dell'amore per Cristo. Rotolata la grande pietra, l'annuncio della Chiesa è per tutti. Beati gli invitati alla cena dell'agnello, crocifisso e risorto. Per la potenza dello Spirito del Signore risorto gli ostacoli rotolano via e rimangono sul margine, al lato, per permettere di procedere e per segnare come pietre miliari le sconfitte e le vittorie della storia della salvezza. Questa è per sempre la storia di ciascuno di noi, di ogni uomo e di ogni donna che ha il coraggio della fede pasquale. Santa Pasqua, nella luce e nella forza del risorto.